Il dottor Archer mi ha detto che lei si sente pronta e vuole tornare al lavoro. Se non avessi spinto per la mia ricostruzione vertebrale, ora forse non sarei qui. Tu ti senti moralmente compromesso promuovendo il bascone? Matt! Dottoressa Peiro! Mi sono messa nei guai. Tutto quello per cui ho lavorato andrà perduto. In Prima Visione Italia 1, la settima stagione di Chicago Matter. Giovedì dopo Chicago Fire. Giovedì.